Io sono stato l'unico domenica già a aver formalizzato al Presidente Ceriscioli una richiesta per fare un'ordinanza. Era necessario come misura di prevenzione, che significa prevenire quando il problema ancora non sussiste, e anche dare la possibilità ai cittadini, alle forze dell'ordine, ai sindaci e alle scuole, ma soprattutto al personale sanitario, di avere dei dispositivi che in qualche modo informassero in modo chiaro su quali erano le misure da adottare di fronte ad un rischio che, dobbiamo dirlo per chiarezza, non bisogna fare allarmismo e non bisogna nemmeno generare panico, però bisogna comunque attivare delle misure di precauzione, non bisogna far finta di nulla ma nemmeno esasperare gli animi. È stata gestita tutta questa vicenda in modo dilettantistico e soprattutto per una volta che Ceriscioli, ancorché in ritardo, aveva preso una decisione, abbiamo visto una scatenarsi del governo che ha fatto addirittura il Consiglio dei Ministri per fare l'impugnativa contro l'ordinanza, quindi sospendendo gli effetti che sono entrati in vigore oggi. È una diatriba dentro il Partito Democratico come se le lotte interne per la successione di Ceriscioli, diciamolo chiaramente, non si fermassero nemmeno di fronte a questa tragedia e a quelle preoccupazioni che i cittadini stanno vivendo. Secondo lei c'è un grande burattinaio dietro questo caos istituzionale? Beh, sicuramente io credo che la telefonata di Conte a quell'ora, mentre Ceriscioli era in diretta televisiva con un milione e mezzo di persone, avesse non solo un burattinaio ma qualcuno che evidentemente aveva più interesse a far fare brutta figura a Ceriscioli piuttosto che alla salute dei cittadini. Questo lo penso sinceramente. Non è brutto constatare che le faide familiari vadano oltre l'interesse pubblico e la salute dei cittadini? No, questa cosa è una vergogna proprio. Su questa vicenda, ripeto, non bisogna creare allarmismo, però bisogna prenderla seriamente. Serve la politica in queste situazioni, quando sa prendere delle decisioni in modo fermo, chiaro e mette i cittadini, gli operatori, le istituzioni nelle condizioni di eseguire determinate linee, sapendo che un rischio di panico c'è in queste situazioni, oltre che un rischio per la salute. Allora, qui abbiamo assistito ad un carosello, ad una giostra di chiacchieroni che in queste ore si sono dati addosso fuori e dentro le stanze delle istituzioni per una lotta che è quella delle regionali del prossimo anno. Cioè dentro PD c'è una divisione tra chi non vuole più Ceriscioli e chi lo vuole, compreso Conte, che mi pare entrato a gamba tesa in questo dibattito. Cioè ancora ieri sera, quando era evidente che c'era già un caso conclamato nelle Marche, il governo ha convocato il Consiglio dei Ministri per fare l'impugnativa alla Corte Costituzionale dell'ordinanza. Cioè un governo che non si è accorto delle Marche per quattro anni, abbiamo ancora le macerie da spostare di un terremoto, oggi le Marche sono diventate il loro problema perché dovevano bloccare Ceriscioli e secondo me dovevano fargli fare la figura... Ok?